E' già attivo nell'ambito dell'Osservatorio per la Legalità, la Sicurezza, il Contrasto e l'Emersione dei Fenomeni di Criminalità Economica di Confindustria Foggia, lo spazio d'ascolto Wiles Per Point, avamposto strategico nato per il monitoraggio, anche attraverso la collaborazione diretta degli imprenditori, dei fattori patogeni del tessuto sociale in cui si annida il rischio di comportamenti criminogeni. Lo rende noto il Presidente dell'Osservatorio, il Dottor Massimo Lucianetti, al termine della prima seduta dell'organismo, chiamato a fissare tempi e modalità operative delle azioni da mettere in campo. Deliberata anche l'istituzione di ben cinque commissioni interne, con il compito di analizzare le diverse complessità, tenuto conto delle problematiche di contesto e degli aspetti più emergenziali del territorio. Individuati i bacini di competenza delle commissioni, sistema produttivo, assetti lavorativi, credito ed economia, formazione ed etica, istituzioni, società e prossimità. Il compito che cercheremo di svolgere non ha solo la finalità di creare le premesse per il ripristino della serenità necessaria che chiedono le imprese affinché continuino ad operare per la crescita e lo sviluppo di una terra che ha grandi potenzialità, ma anche quello di collaborare con le istituzioni, ha dichiarato Lucianetti.